dunque dobbiamo andare alla stazione di servizio e iniziare ad aiutare sta povera gente in questa zona dobbiamo incontrare bilal qui e queste cose cosa sono nido di notturni persona nido di notturni persona scomparsa come faccio a distruggerlo un nido cioè o meglio nel gioco base noi distruggiamo il nido grazie alle bombe di rahim più che altro stavo vedendo se negli altri insediamenti abbiamo un venditore ma mi sa che no eh ho trasformato la spada due mani che avevamo nella zweihander e appunto come la strappa carne io infatti non capisco quali siano i progetti poi modificabili quali no la zweihander è modificabile ulteriormente vorrei renderla una spada diabolica ma non mi va neanche di consumare materiali per un'arma blu a quel punto li consumiamo per un'arma di livello superiore allora se giusto per aumentargli un pochino il danno giusto per utilizzarla adesso la usiamo come sanguisuga giusto per modificarla e già siamo saliti i 100 punti niente di che però la zweihander come altre spade possiamo lanciarla e riprenderla e soprattutto nonostante ha due mani è veloce molto bene molto molto bene sai cos'è il problema è che il bubble head ha una qualità inferiore rispetto a tutto il resto e si vede si vede tantissimo dicevo appena possiamo dobbiamo potenziare per bene il buggy perché per esempio un buggy in teoria in queste zone a elena dovrebbe passare senza problemi e pure sto bene tranquilla ma ascolta il tuo paziente ha la ragione qui c'è questa una comunità e quelli che ne fanno parte sembrano essere immuni non lo so sono protetti da una specie di sciamana del posto che chiamano la madre comunica solo attraverso i suoi sacerdoni ma no dai stavano parlando ma ah perché è apparso una richiesta qui qui vicino ecco perché non si sentiva una sega vabbè andiamo a vedere magari è un mercante ambulante sì per favore grazie ah che fregatura combattente della fossa no mi piace il fatto che abbiano più offerte i vari venditori la cosa buona è che in questo dlc ho già notato che i venditori nonostante in questo momento non abbiamo trovato niente di eccezionale hanno però molte più stack di materiali ci ho sperato avesse qualcosa di arancione purtroppo non è andata come volevo comunque dopo tutto il correre saltare sui tetti e tante altre belle cose che abbiamo fatto per tutta run investire gente col buggy è comunque soddisfacente a modo suo più che altro vedi appena andiamo contro un nemico subito la macchina rallenta non sto dicendo che si è reale anzi tutt'altro però appunto è un rallentamento molto che si nota ma sto cane carino un progetto progetto gelato vediamo già aver trovato così tanti progetti sono contento ed è viola congelamento un piccolo effetto congelante tu attacchi sulla mannaia o il faccetto dovrei avere un falcetto o una man... cos'è? ah un'asse chiudata un falcetto o una mannaia arancione dovremmo vedere effetto congelante potrebbe essere una modifica interessante qui c'è la pompa di benzina mi chiedo se la benzina sia gratis oppure no dov'è il venditore? è qua dentro perfetto ciao mercenario 600 uh katana premium mi piacciono le katane cosa posso usare la katana? ma più che altro la katana me la conta come spada corta o no? uno strappa carne viola e arancione potrebbe essere interessante dai dammelo perfetto posso farla alè che tra l'altro me la considera spada corta ok ehi la c'è qualcuno chi dentro chi? salve ci sono oggetti che posso prendermi tipo esatto tipo questo progetto scaricatore scaricatore eccolo qua spada due mani elettrifica di impatta beh non è male possiamo fare la strappa carne e renderla diabolico tra l'altro però sono più interessi ah no questa è sulla mannaia è vero aspetta c'è mica no non è un rifugio dove posso ah peccato anche se in realtà credo che lo diventerà dopo che avremo fatto la missione per chiunque sia qui balil buongiorno scusa sei tu il proprietario qui no 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 ehi è tutto a posto non preoccuparti ecco sono bilal lui è nuri mio fratello kyle crane piacere di oh scusa che posso fare tranquillo beh ho sentito che alla gente del posto potrebbe servire una mano oh sì jasir mi ha detto che saresti venuto so tutto di te se ti voglio solo aiutare quelli che stanno in città ehi vuoi aiutare gli infetti non devi spiegarlo a me ti capisco mio fratello è stato morso un paio di mesi fa un paio di mesi ma non si è trasformato nemmeno io riuscivo a crederci ma eccolo qui buone condizioni non come questo orca droni guarda la lista delle cose da fare laggiù jasir non dice balle abbiamo davvero bisogno di aiuto e amico sono invidioso del tuo mezzo è il primo funzionante che vedo da diverso tempo ah fantastico ogni tanto me lo porterai e mi ci farai dare un'occhiata mi apporterò qualche piccola modifica diventerà un vero gioiellino vero gioiello dai mi sto annoiando per favore porta qualcosa da fare puoi renderti utile a lungo termine trattala bene i motori non sono il mio forte allora sei fortunato a conoscermi ecco fantastico sarà un bel viaggetto ma scommetto la mia mano sinistra che ne varrà la pena c'è un camion della silas abbandonato sull'autostrada vai a darci un'occhiata e se trovi qualche pezzo utile portamelo va bene ci penso io baghi grahal queste statuette non posso prenderle peccato allora vediamo cosa avete qui ricompensa verniciatura grazie fornitore ok è un fornitore base pensavo mi desse qualcosa e abbiamo una mina ok pupazzo dondolante di bilal ma no che è successo mi sa che non c'è corrente stiamo lavorando per sistemare il problema puoi aiutarci beh sì direi di sì credo che la corrente sia un problema un pelo più superiore rispetto a prendere i pezzi della macchina al momento e appunto visto che adesso è diventato un nascondiglio anche per me no credo che la mannaia che avevo l'ho utilizzata per fare qualcosa perché non trovavo progetti da modificare il che è un peccato allora come ho già detto finiamo di utilizzare prima tutte le armi blu e viola poi ci pensiamo ad utilizzare quelle arancioni eccola qua mannaia orientale favolosa perfetto 28 mila mi servo 10 mila dollari non abbiamo più i soldi per nulla ma almeno abbiamo una mannaia orientale ora come ho detto finiamo di utilizzare queste qua blu e viola e poi ci pensiamo che tanto finirà che io il gioco lo finisco senza usare queste cazzo di armi allora che devo fare innanzitutto porta questo fusibile ad ali alla centrale senza può fare un cazzo ovviamente potremo riattaccare la corrente se riuscirà a non finire da un nato ecco quel tizio pensa che le misure di sicurezza siano per le mammolette ovviamente che cercava di estrarre una lampadina rotta da una presa con un cacciavite d'acciaio alla corrente attaccata sì probabilmente è una brava persona vabbè scusami e allora succedere due cose uno come ho detto portagli questo fusibile e due cerca di non farlo ammazzare funzionante o il fusibile salterà non appena alitto che era l'interruttore dice che quello vecchio terrà ma io non ci credo d'accordo capo quanto mi costa fare benzina ma scusami posso usarlo quante volte voglio si ricarica nel tempo mettiamo il turbo di livello 2 già la velocità si nota la differenza per quanto leggera ma si nota abbiamo bisogno si capo arrivo abbiamo bisogno delle lame davanti alla macchina so che ci sono perché c'erano ovunque nelle immagini tipo promozionali di tutti i dlc ma questo qua che mi è saltato addosso ma da quando ok l'ho ucciso esattamente come volevo ucciderlo schiantandomi contro di lui tutti morti caffè grazie sarebbe comodo soprattutto con i notturni quanto mi dai 200 dollari vabbè grazie cerca di non ammazzarti eh vabbè se anche aiutare sta gente così mi da qualche punto extra tanto vale farlo eh sai la zwei under non sembra male è una buona gittata soprattutto laterale ed eccoci qua arrivati alla torretta ma allevatevi tutti è stato bello finalmente scoprire com'era quest'arma ma c'è nettamente di meglio però forse ho capito come salire più facilmente ci arriviamo lì col rampino ovviamente no quindi l'unica è lanciarsi e aggrapparsi ecco qua ecco fatto calmo pazzo lui non fare ste mosse azzardate senza che io me ne accorga allora calmi tutti calmo calmo è stata clunce eccolo qua perfetto bravo e ora andiamocene da qui ah dobbiamo andare proprio in fondo in fondo in fondo eh dio mio sto andando come i cavalli su skyrim eccoci arrivati alla diga finalmente troveremo il tizio che sistemerà la corrente perchè ho seri dubbi sul fatto che sia ancora vivo c'è gente che però diventa più aggressiva all'improvviso eccolo qua il nostro amico ma 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 levati come fai a essere vivo tu? cioè ormai è chiaro che questa cosa della madre è più che una semplice preghiera e credenza e basta senza senza sapere nulla prova ipotizzare la madre è davvero una credenza che loro avevano prima di questa cosa e dopo l'invasione degli zombie è diventato uno zombie ha in qualche modo ottenuto davvero un qualche tipo di potere o più che potere magari ha il controllo su una certa quantità di zombie che diavolo succede qui? kyle crane in persona piacere di vederti questa è questa è la benedizione della madre lui è uno dei senza volto devo chiedergli una cosa non osare disturbarlo le sue preghiere ci proteggono non capisci? eh ho visto sono io che mi sono improtetto da solo qui eh ma ho una cosa per te e l'altro ti manda i suoi saluti quel bastardo ok? puoi riattaccare la corrente? ti serve altro? beh visto che chi hai di quando questo relitto preistorico di Marta si è rotto deve essere saltato l'interruttore principale di trasferimento va riattivato ovviamente ci devo pensare io qui ho praticamente finito quindi ecco prima lo sistemi è meglio eh d'accordo Ali ma guardalo l'ha stordito per davvero eh vabbè entriamo dentro la diga sperando non ci sia nessuno di grande grosso e cattivo qua dentro permettimi ho i miei seri e grossi grandi dubbi e che cazzo e no e dai vabbè 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 cazzo perché le cose non sono mai facili perché se le cose lo fossero crane tu ora saresti immune non saresti stato morso vediamo se riesco ad ammazzarlo ancora con un colpo ecco ecco fatto magari non era uno però abbiamo vinto lo stesso perché ho il presentimento che io debba scendere qua sotto lì sono dentro sto riattivando l'interruttore ottimo ma non ha funzionato ma che bello cerca l'interruttore di trasferimento principale e lì da qualche parte fai in fretta eh fai questo fai quello vai da questa parte vai da quest'altra non ho ben presente quando è che siamo diventati dei cazzo di fattorini però vabbè ecco qua tra l'altro questa mi ricorda la zona dove abbiamo combattuto con Reis cioè la parte della fogna prima di arrivare da lui allora dobbiamo salire di sopra ma non mi dice bene dove quindi qua ahia che male se solo si fosse arrampicate credo sia quello ok questo è il piano dobbiamo trovare eccolo lì pronto il senza volto dice che dobbiamo fare in fretta ti prego sistema la faccenda prima possibile si si ci penso io ah maldizione a voi funziona pronto crane il senza volto ha detto che deve andare via non sono riuscito a finire il lavoro fai in fretta amico ci spostiamo in una delle baracche nella centrale raggiungici appena hai finito la d'accordo va bene ah ma si sta riempiendo d'acqua qui eh passiamo di sotto sempre in mezzo alla merda ai topi morti galleggianti mi stavo giusto chiedendo se uno zombie cade in acqua muore istantaneo si ce la faremo uscire senza incontrare nessuno sono riuscito a nascondermi ma il senza volto è rimasto fuori e non so cosa sta succedendo i rumori sono orribili ahah perchè io invece penso sia stia benissimo e via perchè usare le scale quando posso fare questo signor senza volto è lui eccolo lì si mi sa proprio di si mi sa che il potere della fede questo giro non ha funzionato ehi tranquillo sono io non uscirò fino a quando non sarà sicuro dimmi quando posso beh non c'è più nessuno quindi ok non dovrebbe esserci più pericolo ma che è successo non lo so ha detto che dovevamo muoverci subito e mi ha portato qui mi ha detto di chiudermi dentro è morto adesso da la madre lo benedica tante care cose non dovevi finire qualcosa là fuori si avevo quasi fatto devo solo accendere un po' di interruttori ci penso io allora lo guardiamo mentre lavori pronto? si andiamo prima chiudiamo la faccenda e meglio è esatto quindi muoviti ali per favore ma scusami vabbè dai vai ali ti proteggo io mi sa che erano i bastoncini qua che facevano effetto fumo per allontanare i nemici eh ho ragione ecco qua che funziona tutto si se non fosse che adesso arrivano tutti chi è il primo ad arrivare dai 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 che li tengo lontani io ali non ti preoccupare ho stamina infinita posso stare qua a swingare tutto il tempo e mi manca poco ecco ecco a te cretino dai ali muoviti che la gente qui c'ha fame dai 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 pochetto pochetto e ci mangiamo un pochè dopo dai belle venite qui dai lì ali ti tiro un calcio se non ti muovi oh sei riuscito ad evitarlo bravissimo ecco qua dai ali muoviti pezzo di merda eh meno male quanto vi sta bene rau 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 è morta è caduto di sotto tutto bene? allora è tornata la corrente? è tornata per ora ma non posso fare promesse con questo ammasso di farraglia arrugginita ho capito allora io vado vieni con me ora qui è sicuro rimarrò un po' a tenere d'occhio la cosa non vorrei che saltasse tutto non appena me ne vado bravo tu sei un uomo ali sappilo e noi non siamo più degli stranieri siamo l'ultimo arrivato eh meglio che nulla no? straniero in terra straniera mi chiedo quante missioni però mi servano perché la missione va davanti ma che bello c'è un progetto qui elettroattrezzo vediamo falcetto mannaia e ascia una mano elettrico ed impatto ciao 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 ciao